Perché due esseri quando litigano gridano eppure sono vicini? Perché i loro cuori sono distanti? Perché due esseri quando litigano gridano eppure sono vicini? Perché i loro cuori sono distanti? Perché due esseri quando litigano gridano eppure sono vicini? Perché i loro cuori sono distanti? Perché i loro cuori sono distanti? Perché i loro cuori sono distanti?